che voleva dire aurora che cos'è successo l'altra notte tra di voi non è successo niente qualcosa avrà voluto dire anzi significa una cosa sola ci sei andato a letto e allora aveva ragione tuo fratello pensi solo a te stesso tieni fuori tieni fuori ivan ma come faccio mi sembrava ti piacesse portarti a letto sua moglie l'ho tradito solo con te e tu ora mi fai questo